Dai... Oh, salve! In realtà sto facendo finta di fare cose, però sostanzialmente ho passato gli ultimi dieci giorni a sistemare scartoffie. È possibile che nel 2021 l'Italia si basi ancora sulla carta? Non so. Allora, è arrivata un po' di roba. E sono tutte cose che ci serviranno sostanzialmente per i nostri futuri piani malefici. Principalmente attrezzi. Bello. Un bel set di chiavi inglesi. E la Peppa, quanti sono? Ok, chiavi di tutte le dimensioni possibili. Va bene. Poi punte da trapano. Oh! Ah, tutta sta roba è roba che ho comprato io, però Bosch o qualsiasi altro brand di utensili. O utensili? Se volete io ci sono, eh. Mandatevi una mail e ne parliamo. Ad ogni modo, smerigliatrice angolare. Questo è tipo il coprilama. Poi qua ci vanno le lame in modo da andare a tagliare, farmi. Molto bene, molto bene. Questo è lo strumento del potere. Oh, sì. Seghetto alternativo. Così su Amazon mi sembrava uno dei migliori qualità prezzo. Carino. Niente, è un normalissimo seghetto alternativo per tagliare il legno. Belli questi. È un set di cacciaviti. La cosa molto carina è che hanno già i loro supporti da muro, così li attacco là. Sì, devo dire un po' plasticosi, però sembrano buoni. Brugole. Poi... Oh là là! Ecco, questa mi è costata un rene. Come si usa? Sostanzialmente è una bella valigetta di chiavi a cricchetto. Ragazzi, è arrivato il tavolo. Allora, porca vacca, pesa un sacco. È un'ora che sono qua dietro a questa cosa qua. Perché oltretutto devo stare molto attento perché qua sotto c'è il piano e se lo rovino è un disastro. Diciamo che provarei a baltarlo in qua. Metto in salvo il computer. Non si sa mai. Fidatevi di me. Oh, e che è? Oh, altro cartone. Oh, è gigante. Questa è la copertura. È molto carina. Wow. Potevo io prendere un tavolo normale? E no che non potevo. Infatti questo diventerà il mitico tavolo multifunzione dello studio. Da lavoro, da biliardo, da gioco, da pranzo. Tutto. Devo mettere le gambe. Così. Tre gambe e un uomo. C'è da mettere questi. Sostanzialmente servono per evitare che le palline vadano per terra. E nulla, è finito. Ci saranno i piedini ma non li mettiamo. Anche perché poi dovrò fare tutta una serie di modifiche, di cose. Questo è solo lo scheletro del tavolo supremo. Uuuh, pesa un sacco. No, così. E che ho paura che le gambe si... Sarebbe stato meglio in due ma... Eeeh, 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 siiii. Wow. Ma che bello. Non avete idea. Ok. Eeeh, ciao. Sfruttiamo le nostre risorse. Ok, così ha senso perché così. Io lo alzo ma lui non si ribalta perché lo tiene di là la corda. Vero? Questa io devo fissarla. Se io fisso questa, tipo la colonna, e poi mi appendo, io faccio effetto leva. Se io avessi un altro punto fisso qua, io la aggancio qua, no? Mi appendo lì e il tavolo si... Il tavolo si mette in equilibrio. Lui si alzerebbe se avesse qualcosa che lo alzasse. Ho paura, ho paura. Fermo. Uuuh. Yeah. E guardate che bomba. Molto carino. Ok, è passato un giorno. Ho sistemato tutto quanto. È stato più duro sistemare tutti gli scatoloni che altro. È tempo di testare il nostro tavolo. Premetto che io sono veramente scarso. Non so neanche totalmente le regole. Però vabbè, vedremo di divertirci. Prima spaccata ufficiale. Inauguriamo ufficialmente il biliardo d'ale. E che cavolo. Ma no. La colonna. Boom. Sono sempre stato scarsissimo. Però finalmente posso passare le ore a fare pratica. Tac. Dai. Ma doveva rimbalzare. Però vuoi mettere. Invece che fare una riunione. O se devi incontrare una persona. Invece che sedersi attorno a un tavolo noioso. Ci si può mettere a giocare a biliardo. O intanto parlare di business. Questo è il futuro ragazzi. Altro che Google. Qua nello studio d'ale abbiamo il biliardo. Tac. Io so già che va a finire. Che passerò le giornate a giocare a sto coso. No. Vai uomo. Non ci sto. Tac. No. Tac. Non è facile. Ma possiamo farcela. Sì. Bene. Bene. Ora passerò la vita a giocare contro me stesso. La cosa bella. È che ovviamente tu lo metti così. Poi ci sono questi due supporti tipo. Il triangolo no. Qua. Così. E due. Oppala. E praticamente diventa un tavolo. Bello grande. Per lavorare. Per fare i video. Per pranzare. Per giocare a carte. Per giocare anche a ping pong volendo. E la questione è che io volevo un tavolo gigante. Non che abbia bisogno di avere chissà che cosa sulla scrivania quando lavoro. Perché alla fine tengo sempre il computer e poco altro. Però penso che proprio a livello mentale. L'avere fisicamente spazio. E il potersi mettere così no. Cioè. È un sacco presidenziale questa cosa qua. E poi ora è per i video comodissimo. Però. Sono molto 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 soddisfatto. Ora dovremmo fargli qualche modifichina perché. Le gambe non sono particolarmente robuste. E soprattutto questo da solo. Si fa una fatica incredibile a spostarlo. Quindi ho in mente tutto un impianto di. Deambulazione. Bello. Altro giorno. Altro unboxing. Allora. Ok. Della pellicola. Questo è bello pesante. Sto tutto amorosamente aperto e poi chiuso. Oh. Sì. 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 Signori. Eh dai. Sembra anche delle dimensioni giuste. E abbiamo una fantastica morsa. Da mettere ovviamente sul bancone da lavoro. Per poter tenere fermi eventuali pezzi da lavorare. Bene. Allora. L'idea di metterla. Si buca e poi si fissa. Diciamo qua. Segniamo. Così. Rondella. E funziona alla perfezione. Qua si possono mettere dei pezzi. Se bisogna che ne so tagliarli o fare qualcosa di particolare. Molto bene. Il pezzo forte però rimane questo scatolone. Era necessaria tutta questa carta? Dovrebbe essere una robetta per i video. Allora. Un'altra scatola. Sperando che non ci siano altre scatole. Uh. Che bomba la confezione da viaggio. Vediamo un po'. Eeeh. Niente. Molto semplicemente è una luce. Un bel pannello led. Ma soprattutto senza occupare tutto lo spazio che occupa tipo la luce che sto usando adesso. Pensavo ci fosse anche il cavalletto compreso. Dovrò. Dovrò comprarlo. Vediamo se riusciamo a provarla al volo. Sì. Buongiorno. Uh. Che bomba ragazzi. Così al massimo. Ah. E poi si può regolare anche la temperatura colore no? E renderla più calda. Guardate quanto sono bello. Va bene va bene va bene. Poi in realtà per tutti i curiosi di tutto l'aspetto tecnico. Quando avrò tutta l'attrezzatura qua nello studio completa completa completa. Magari farò un bel video su tutta l'attrezzatura. Tutte le cose che uso per registrare insomma. Sto sperimentando un sacco di gadget. E c'è un sacco di roba interessante. Per ora però la possiamo riporre. Dovrebbe arrivare qualcos'altro nei prossimi giorni. Continuano ad arrivare cosettine. Tra l'altro là dietro vedete tutta la postazione montata. Allora allora allora. Ok. Dai non potete iniziare a fare i lavori adesso. Cioè silenzio per tutta la mattina mi metto a registrare. Questi qui trapano. Poi uno non deve impazzire. Ok allora sono delle staffe. Sono delle staffe a L. Sono delle staffe L da usare per rinforzare il tavolo insomma. Poi vi farò vedere. Tutto in ottica delle modifiche per il tavolo. Dentro invece. Uh. Abbiamo le luci per il mio Star Destroyer. E sì la postazione che vedete lì è quella che ho utilizzato per montare in diretta il Lego Star Destroyer. Ma tranquilli lo vedrete prossimamente. Poi. Sempre a proposito di Lego ho preso questo libro qua. E nulla ci sono tutte le cose architettoniche. Spiegate ma soprattutto riprodotte con i Lego. Uno per me. E uno sarebbe il regalo di Natale in ritardissimo per il buon Galeazzi. Che giustamente sarebbe anche architetto. E non so se quando uscirà questo video sarò riuscito a darglielo. Quindi in caso Andrea questo è per te. Qua dentro quindi. Fondamentale. Questo non è un cavalletto ma è il cavalletto. Il classico Gorilla Pod. Quindi si posiziona così. Qua ci va la fotocamera. Con tutto snodabile che si può mettere in mille posizioni diverse. Io ne ho sempre avuti diversi. Il problema è che dopo un po' di tempo si smollano. Quindi se li usi tutti i giorni come li uso io. Vanno cambiati. Tra l'altro questo è figo perché ha la testa che è un po' gigantesca. Ma si può utilizzare con la stessa testa del cavalletto che sto usando. E quindi senza fare duck. E sono già pronto con il Gorilla Pod in mano per fare mille cose. E quindi nulla da questo video unboxing con un po' di roba. Vari aggiornamenti sempre qua sullo studio che giuro ci siamo quasi. Tra qualche settimana arriverà il tour completo dove vi mostro tutto, 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 tutto. Tra le mille altre cose che ho fatto sono anche incredibilmente riuscito a organizzare un mini viaggio avventura. Fortunatamente per una serie di cose. Mi raccomando seguitemi su Instagram se non volete perdervi nulla e volete anticipazioni, spoiler e anteprime. E nulla io sarò qui a sclerare con questi qua che mi trapano nello studio. Ci vediamo prossimamente. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.